Si è concluso il weekend all'insegne della cultura del vino che ha visto oltre 60 aziende del movimento turismo del vino Puglia accogliere turisti e visitatori in occasione della 26esima edizione di Cantine Aperte, la festa delle cantine socie del consorzio impegnato per promuovere la qualità del vino e la sua cultura. Io sono soddisfattissima come presidente per questa 26esima edizione, sono stati due giorni molto intensi, tutti i soci che ho sentito mi hanno dato dei feedback assolutamente positivi, sicuramente ha funzionato anche la partnership che abbiamo avviato con l'assessorato alla cultura e al turismo, infatti anche tutti i percorsi turistici nelle varie parti pugliesi sono stati pressi d'assalto, sia da turisti stranieri ma anche da appassionati italiani ma anche dai pugliesi stessi che sono andati semmai alla scoperta di luoghi che non conoscevano. Straordinaria l'affluenza dei wine lover che hanno deciso di raggiungere le cantine di tutta la regione per visitare i siti produttivi, degustare i vini e conversare con i vignaioli. Prossimamente ho scoperto un mondo tutto nuovo perché fare il vino l'abbiamo sempre letto nei libri o aiutando i bambini a studiare, invece qui ho scoperto tutto quello che ci hanno sempre raccontato. Molto interessante vedere da vicino quelli che sono i vari processi produttivi e conoscere effettivamente da vicino come nascono i vini che poi ci troviamo effettivamente in tavola tutti i giorni. Con l'edizione 2018 di Cantina Aperte inserita nella programmazione progettuale triennale del Consorzio Puglia Cultura del Vino Scoperta di un Territorio, il Movimento Turismo del Vino Puglia ha inaugurato la collaborazione con l'assessorato all'industria turistica e culturale della regione Puglia. All'evento ricco di attività messe in campo dai vignaioli ha preso parte anche l'assessore regionale Loredana Capone che ha visitato alcune aziende salentine, location di musei dedicati alla storia e alla cultura vitivinicola del territorio. Abbiamo deciso di aderire al progetto delle cantine aperte che fa conoscere le cantine non soltanto facendo assaggiare e gustare i vini ma anche tracciando la storia delle vendemmie, le storie che ci sono dietro la cultura del nostro territorio. E quindi il nostro paesaggio, il caldo che rende diversa la vendemmia, le biodiversità, tutto questo rende veramente grande il nostro racconto. E trovarsi nelle cantine dove ci sono anche musei che raccontano questa storia è importante per dare ai cittadini e anche ai turisti una esperienza veramente eccezionale. Cantina Aperte inaugura la stagione dell'iniziativa del Movimento Turismo del Vino Puglia all'insegna dell'enoturismo di qualità. Prossimo appuntamento Calici di Stelle, il grande evento della settimana di San Lorenzo giunto alla sua ventesima edizione.